La vita è una maratona, non è uno sprint, anche se perdi, resti indietro i primi cento metri, quello che conta è arrivare fino in fondo, quindi muoversi. Amici di Good Music, vorrei farvi vedere il mio ultimo video, che è anche l'ultimo singolo, Ragazza a Paradiso. Questa canzone è stata realizzata, il video della canzone è stato realizzato attraverso un video dal vivo, suonato all'Alta Traste Milano, un locale molto bello, e in mezzo a queste scene di musica live ci sono anche delle altre scene di vita quotidiana, spero che vi piaccia. Non so che cosa dirti domani, sarà ieri, ma sì, noi non saremo uguali, ma dentro i nostri abbracci quelli sì. Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto, ma è le tue braccia uno spazio perfetto, in cui ci troverei per sempre, in cui ci resterei per sempre. Siamo due gocce dello stesso mare.